Sull'altro fronte non avrei mai pensato che fissare la data delle elezioni rispettando la Costituzione, lo Statuto della Regione, le leggi dello Stato dovesse costare polemiche da parte delle opposizioni. È chiaro che con l'avvicinarsi delle elezioni il centro-sinistra sarà capace di polemizzare anche sull'ora esatta. Inizia così la dichiarazione del Presidente Marsiglio in risposta a quanto sollevato ieri dal Movimento 5 Stelle da azione. Nel 2019 votammo a febbraio, dice Marsiglio, la proclamazione degli eletti avvenne poche settimane dopo e il 16 marzo ci fu la prima seduta del Consiglio regionale. Fissare al 10 marzo 2024 la data delle elezioni significa rispettare rigorosamente il termine di 5 anni per la durata della legislatura. Né un giorno in più né un giorno in meno le polemiche che sono state scatenate ieri dalla deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto e dal segretario regionale di azione Giulio Sottanelli sono davvero surreali, conclude il Presidente uscente Marsiglio.